buonasera buonasera a tutti benvenuti con la conferenza con questo webinar dal titolo quantistica e codici karmici questa sera siamo in compagnia del dottor lo sergio udasso ricercatore scientifico formatore e health and life coach buonasera sergio buonasera buonasera a tutti eccoci allora questo webinar grazie a questo webinar scopriremo i codici mentali che ci permettono di realizzare oppure di far fallire le nostre predisposizioni innate capaci di agire attivamente per un cambiamento benefico nel nostro corpo e anche nella nostra psiche ricordiamo che il dottor audasso esperto delle basi neurali dei processi decisionali e affronterà proprio questa sera questi temi e molti altri svelando tra l'altro i codici karmici che predispongono l'uomo alla salute alla malattia sia fisica ovviamente che psicologica dunque questa sergio tra l'altro è un po in qualche modo è un antipasto è un po l'aperitivo perché il mercoledì 19 gennaio a partire dalle 20 e 30 si terrà invece una masterclass molto più approfondita di almeno due ore dal titolo guarigione quantistica e potere del cervello tra l'altro per 24 ore c'è un'offerta esclusiva per questa masterclass sarà soltanto 9,90 euro tra l'altro per chi si iscrive proprio questa sera adesso la nostra Giulietta qua in chat metterà tutti i link per potersi iscrivere ci sarà anche in omaggio una meditazione guidata proprio dal dottor Audasso Sergio iniziamo subito innanzitutto ti ringrazio per essere qua con noi ricordo anche per chi volesse poi rimanere in contatto con te o approfondire comunque la tua conoscenza oltre che la lettura dei tuoi libri ci sono il tuo sito www.sergiaudasso.it e poi la tua mail che è per te chiocciola sergiaudasso.it e anche tutti questi contatti verranno esso inseriti nella nostra Giulietta in chat allora partiamo da i tuoi libri in particolare da psicosofia karmica e dalla diciamo continuazione che è la natura karmica della malattia proprio in questo secondo volume vorrei leggervi ecco qua che intanto vediamo poi la vedremo tra poco la cover del libro ecco questo è il primo psicosofia karmica e poi il secondo da cui vi leggerò proprio una citazione voglio iniziare con questo la malattia il disagio le difficoltà ci invitano proprio a questo cambia il tuo stato di coscienza cambia il tuo stato nel volere nel sentire nel fare nell'essere te a ben vedere ogni manifestazione che si presenta nel corpo è la manifestazione di uno stato di coscienza la coscienza usa il dolore per trasmetterci un segnale mandarci un messaggio il corpo eterico il mediatore di questi messaggi ecco cosa ci dicono la malattia o il disagio ci mettono di fronte alla scelta di dover cambiare il nostro stato di vita senza se e senza ma benissimo sergio partiamo proprio da qua in che modo possiamo accogliere questi messaggi e quindi cambiare decidere di cambiare la nostra vita magari anche perché siamo malati o comunque stiamo vivendo un disagio magari anche fisico e psichico e vogliamo appunto cambiare sì allora c'è stata l'incursione molto bene bellissimo allora senza se e senza ma la coscienza tutto passa attraverso quello che è un aspetto del nostro corpo che è un aspetto invisibile che la scienza definisce adenosina tricosfato che è la parte forte delle nostre cellule la parte vitale nelle scienze esoteriche nella scienza dello spirito si parla di corpo eterico il corpo eterico è proprio il mediatore della nostra coscienza del mediatore delle reazioni anche corporari e cellulari di tutto quello che capita di quello che noi assorbiamo e di quello che possiamo in qualche mondo poi esprimere nella nostra vita quello che ci dice il dolore è semplicemente guarda che c'è qualcosa che non va è un po come la spia del cruscotto della macchina che si accende quindi dice fai attenzione c'è qualcosa che non va ma la cosa principale che ci dice è da un lato devi cambiare il tuo stile di vita dall'altro invece devi proprio cambiare tu quindi da un lato puoi migliorare delle cose dall'altro devi cambiare tu nella natura carmica della malattia spiego chiaramente che cosa accade in questo senso quindi spiego esattamente che cosa avviene dentro di noi per questo motivo cioè quando riconosce quando è devo migliorare o quando è devo cambiare completamente proprio perché i codici di cui accenderemo questa sera sono i codici che ci fanno comprendere una cosa o l'altra ma è il nostro stato di coscienza il nostro stato di coscienza è legato a ciò che io credo di essere ora perché per esempio in uno stesso contesto una persona si ammala e un'altra no proprio per questo perché non è soltanto dovuto all'ambiente l'alimentazione ma anche appunto alla nostra coscienza sì è legato alla nostra coscienza perché la nostra coscienza è il mediatore vero e proprio di ciò che sono i passaggi e la trasformazione un po come avviene nel pancreas l'aspetto enzimatico quindi sono gli enzimi il nostro stato di coscienza è l'enzima di quello che è la trasmutazione di quello che noi respiriamo intorno a noi dico respiriamo che assorbiamo che viviamo intorno a noi e dentro di noi quindi è questo per cui il terreno è tutto il terreno è quello che in noi è la rappresentazione di ciò che abbiamo assunto a livello ereditario dai nostri parenti o a livello delle vite precedenti per chi ci crede le vite precedenti quello che noi abbiamo come predisposizione come legge della distribuzione karmica quindi quello che noi abbiamo assunto dentro di noi come predisposizione quindi quelli che sono i nostri codici che possono essere attivati o meno di fronte a una situazione quindi quello che si attiva è proprio questo ci vuole un terreno quindi noi abbiamo dei semi questi semi che sono i codici karmici questi semi possono essere innaffiati o no il nostro stile di vita fa sì che questi vengano innaffiati e provvedono un frutto il nostro stile di vita impedisce che questi semi vengano innaffiati loro rimangono lì e non hanno nessuna incidenza sulla nostra vita per cui il nostro stile di vita il nostro stato di coscienza di questo momento prevede una nostra reazione anche da un punto di vista corporale dare alimento questi semi oppure no ecco perché in alcuni contesti alcuni si ammalano alcuni nostri ecco per esempio parlando proprio di di terreno e di di semi quanto è importante l'alimentazione anche perché sentiamo comunque da anni tantissime teorie che poi finiscono spesso per essere contraddittorie quindi magari anche approfondendo certe certe questioni molte persone molti utenti finiscono anche per essere un pochino confusi sì anche perché l'alimentazione a mille sumature per cui ci sono tante diete ci sono tanti studi tantissimi ricercatori che dicono il mio metodo migliore dell'altro tutti hanno in modo non l'altro ragione perché tutti seguono una legge assoluta cioè quello dell'armonia armonizzare l'equilibrio delle cose cioè quindi evitare la tensione che c'è in un equilibrio ma armonizzare questo equilibrio quando c'è per cui mangiare tutto ciò che ci sentiamo di mangiare allo stesso tempo anche essere in armonia con quello che mangiamo ricordo che ci sono moltissimi in oriente sono molto vedantico in questo in oriente ci sono molti che monaci che prima di mangiare fanno dei mantra e comunque purificano energeticamente i vaidi indiani che sono i medici indiani hanno una persona che li prepara al mangiare e nessuno può toccare il suo cibo perché se no lo renderebbe impuro c'è una tradizione di una preghiera prima del pranzo della cena era la purifica non solo ringraziamento di quello che abbiamo fatto ricevuto da quello che può essere il signore eccetera il nostro pari quotidiano ma anche una purificazione eterica energetica del cibo quindi è un rapporto veramente importante nell'alimentazione legato all'aspetto non solo nutrizionale da un punto di vista biologico ma da un punto di vista proprio energetico quindi il segnale corpo ci dà dei segnali principi se io mangio qualche cosa e questo mi fa il segnale di guarda che non va bene dovremmo smettere purtroppo la tecnologia ci fa dire guarda che non va bene ma ti lascio un retrogusto così buono così buono e allora ne prendo un altro e per una stimolazione dell'insula noi nel cervello siamo stimolati a devorerne di più quindi vogliamo riproporre quel piacere secondario che abbiamo avuto e quindi tendiamo poi a mangiare quello che vengono chiamate le schifezze tanto buone ecco e quindi la cosa lì l'alimentazione proprio si basa su quello cioè noi dovremmo entrare in relazione con quello che siamo noi legati al cibo sono più di 30 anni che sono vegetariano lo dico in maniera serena i miei esami sono a posto il mio colesterolo è a posto il mio ferro è a posto perché non faccio una dieta da vegetariano perché mi sento costretto a farlo è stata una scelta consapevole e poi i miei parenti i miei amici lo stesso figlio acquisito che mangia carne nella cucina cucinata anch'io prima per andare a servire da solo non è quello il problema l'importante è essere in armonia con quello che si fa e si mangia quella è la cosa essenziale l'alimentazione è importante perché l'aspetto nutriente dell'alimentazione è anche ciò che noi possiamo assorbire dai nostri pensieri i pensieri sono nutrimento dell'anima e quindi noi pensiamo sempre a quello che mettiamo nel piatto ma qual è nella tovaglia nel piatto nella tavola delle nostre i nostri pensieri della nostra mente che cosa mettiamo lì di che cosa ci nutriamo ed è quello che fa più male a volte quindi dovremmo anche mangiare con calma non in piedi non facendo altro magari evitando di guardarsi dei telegiornali terrorismo mediatico o robe del genere e anche magari prendendoci la nostra pausa tranquilli sì 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 sarebbe più conveniente fare quello so che è difficile lo ammetto anche io faccio difficoltà spesso a farlo è importante sapere che si può fare e si deve fare e comunque entrare in relazione diretta con quello che si sta facendo la consapevolezza è la base di ogni nostra azione è una meditazione costante sì ma è una meditazione che ci rende invulnerabili verso tante cose sì senti invece cambiando argomento quali sono le similitudini con la quantistica lo stato di coscienza e la rappresentazione del nostro stato d'essere e la quantistica molto spesso libri che hanno avuto un successo enorme prendiamo dei secret per parlarne di uno tra tanti va bene allora questo questo libro con con le copie vendute nel mondo il mondo adesso dovrebbe essere diverso cioè dovremmo avere gente tutta ricca non dovrebbero resistere malattie dovremmo essere tutti felici e contenti perché chiunque avrà chiesto cose di questo genere come mai non ha funzionato chi dice qualche cosa che stride è quello che c'è scritto nel libro o è come stato messo in atto allora molto spesso ci dimentichiamo proprio per la questione della nutrizione dell'alimentazione siamo noi che pensiamo la realtà o la realtà che sta sta pensando noi e non è un gioco di parole non è un sillogismo cioè la realtà si presenta a noi in modo che noi possiamo vederla perché noi siamo abitanti dello stesso pianeta ma nessuno di noi vive nello stesso mondo quindi quindi questa è una cosa pazzesca cioè noi abitiamo nello stesso pianeta ma viviamo in mondi completamente diversi perché la realtà è di ognuno ed è questo che fa la differenza ed è questo che fa capire come nella similitudine nello stato di coscienza se noi non solo lo facciamo qua con la testa la richiesta della trazione ma lo facciamo in un altro modo cioè essendo legati parlando al nostro cervello quantico ma parlare cervello quantico vuol dire parlare alla natura profonda di noi parlando alla natura profonda di noi possiamo andare verso ciò che noi non sappiamo di sapere e entrare in relazione con quell'aspetto di noi è inutile chiedere qualche cosa di straordinario quando questo in fondo non c'è dovuto faccio un esempio molto eclatante a me è successo che avevo una macchina bellissima cioè bellissima a me piaceva molto aveva la sua bellissima bellissima perché va a 13 anni era un diesel 4 e dicevo o cavolo cioè io poi da settembre non posso più usarla perché scattano a torino scattano i divieti del diesel 4 detto io ho bisogno di una macchina benzina ma in questo momento non c'ho proprio dopo tutte le chiusure che ci sono state in questa questa situazione così sanitaria non riesco non c'ho nessuno mi darebbe un finanziamento non riesco a comprarlo due giorni dopo cugina telefona dice senti devo cambiare la macchina vorrei che la mia rimanesse in famiglia è vecchia una iaris a benzina se te la regalo va bene ok allora c'era ogni cellula del mio corpo sapeva che sarebbe arrivato qualche cosa ed era convinto già all'inizio non doveva neanche tanto mettersi a costruire le cose o farsi un quadro dei propri desideri no semplicemente dire ok io so che l'universo c'è e che mi aiuta questo è la base di tutto la similitudine della quantistica è proprio questo cioè noi possiamo in tutti i modi riuscire attraverso il nostro modo di pensare entra in relazione nel mare delle possibilità e farle diventare una realtà se dico se la nostro nostro modo di essere è al cento per cento coerente con ciò che stiamo chiedendo in qual momento lì le cose avvengono poi è anche un po quello diciamo alla base della della magia quando si parla della vera volontà della volontà vera nel nel chiedere nell'attuare il i cambiamenti a proposito invece delle predisposizioni karmiche di cui parlavi prima che cosa determina il potenziare o il il diminuire dell'influenza delle predisposizioni karmiche sì allora il quello che lo determina è il nostro identificarci principalmente nei ruoli il nostro identificarci in ciò che è intorno a noi e andare quindi ad alimentare questi codici i codici sono cinque non sono tantissimi sono cinque che muovono tutta una serie di cose si portano dietro tutti elementi che sono loro correlati prendiamo lutto cioè la porla della sofferenza del lutto la perdita e quindi noi possiamo avere l'idea del lutto pensiamo non dice ma com'è innato la cosa del lutto non so se avete mai visto in un branco delle di un branco di elefanti un elefante che muore cosa succede gli elefanti cercano in tutti i modi di muoverlo dicono ma sei morto davvero cercano in qualche modo di rialzare l'elefante perché si rendono conto che quella quella persona quella persona quell'elefante è morto quella individuo del gruppo è morto del branco è morto e soffrono e lo coprono e lo coprono con la sabbia è bellissimo struggente ma bellissimo perché fanno questi gesti qua questa ritualità qua il lutto è presente in ognuno in ogni essere vivente ogni cellula fugge alla sofferenza e alla morte quindi il lutto è uno di questi il lutto però si porta dietro il cugino il cugino cos'è il catastrofismo quindi o mi è successo a me o mannaggia ma guardate che roba quindi questi sono il catastrofismo atteggiamento catastrofico l'idea catastrofica se questo viene alimentato da una famiglia come calma di famiglia che punta su questo aspetto qua che tutto quello che succede si esagera è una catastrofe è ovvio che quello viene alimentato molto poi abbiamo la rabbia altro codice la rabbia ci sono le persone che irascibili risose così quelle che tendono ad essere molto prepotenti ebbene vivono in un mondo o hanno contatti viene alimentato se c'è questa rabbia che si muove ok quindi la rabbia si porta dietro tutta una serie anche di questo di correlato poi abbiamo l'attaccamento l'attaccamento le cose il voler essere molto materialisti attaccati alle cose perché l'attaccamento alle cose quello che legato al nostro sistema interiore è quello che fornisce la sopravvivenza quindi il terzo codice è l'attaccamento alle cose ho bisogno di questo non si sa mai ci sono le persone che fanno i accumulatori compulsivi per l'attaccamento perché non buttare via non si sa mai che può servire abbiamo le cantine per quello e poi poi esiste l'altro la gelosia poi pensate che la gelosia sia solo nel regno umano no c'è anche nel regno animale la gelosia è proprio parte integrante degli esseri con una parte un po' emozionale ok quindi tutto un aspetto emozionale c'è la gelosia e la gelosia si porta dietro anche il cugino prima della gelosia e l'invidia va bene e quell'invidia che non deve essere necessariamente enorme manifestata in modo così palese ma mi dà fastidio qua in Piemonte scusate sono piemontese quindi mi scappa per chi non è piemontese c'è lei il tuiru si cioè so quello che mi gira qua in un modo cioè che mi tormenta dentro che mi fa star male perché hanno promosso quella persona piuttosto che me oppure guarda quella persona riesce a fare le cose io devo farmi un tombino tanto per riuscire a raggiungere quel livello lì e queste sono tutte parti dell'invidia piccola ma c'è e questo goccia dopo goccia fa il suo bel lavoro e poi quello che in questo momento è diciamo più espanso come alimentazione che è la paura la paura la paura è un pulsione innate importantissime perché la paura ci salva ma la paura ci blocca sono due tipi di paura la paura che ci permette di salvarci la vita e la paura invece che ci blocca e lì ci sono tutti i meccanismi mentali anche per riconoscere qual è la paura che ci blocca e qual è la paura che ci salva e anche qui la paura si porta dietro tutta una serie di correlati se viviamo in una situazione o per troppo tempo di paura è ovvio che questo alimenterà tutto ciò che è questo codice nella nostra linea genealogica questi codici sono più o meno attivi è proprio ciò che è lo stile di vita le persone che noi incontriamo le persone che ci aiutano che ci dicono delle cose che ci mandano incantesimi o ingiunzioni di un certo tipo tu non riusciremmo a fare questo oppure che è bravo che sei sono tutti e due incantesimi uno positivo l'altro negativo tutti questi incantesimi oppure quello che noi rivestiamo rivestire un ruolo sociale mantenere un ruolo sociale la paura di perdere quel ruolo sociale quindi perché siamo attaccati il suo satellite può essere la paura e quindi alimentiamo la paura per mantenere l'attaccamento per cui la paura diventerà parte integrante del nostro stato d'essere e questo alimentando produrrà tutta una serie di problematiche specialmente ai muscoli i muscoli e quindi per esempio in un in un periodo proprio insomma dedicato come quello attuale in cui tra l'altro il terrorismo mediatico la criminologia sanitaria questi bollettini dei morti che ci vengono propinati tutti i giorni e tutte le essere influiscono sulla dinamica della paura ma in qualche modo anche su quella del lutto del catastrofismo quale sarebbe il tuo consiglio allora il lutto del catastrofismo tende generalmente a richiedere maggiore autonomia il bisogno di chi vive l'elemento del catastrofismo del lutto sta gridando il mondo voglio essere autonomo voglio essere più libero nell'espressione di me voglio avere la possibilità di agire ecco perché tutto diventa una catastrofe perché si sente intrappolato si sente proprio chiuso in una prigione e quindi questo è l'elemento fondamentale cioè nel catastrofismo c'è questo mentre mentre la paura nella paura c'è rapporto con gli altri il bisogno del rapporto con gli altri perché nella nel potere essere in relazione con gli altri il potere farsi riconoscere che un altro elemento fondamentale per la nostra sopravvivenza il farsi riconoscere permette di poter esistere e esistere nel latino vuol dire emergere da quindi emergere da qualche cosa emergere dalla dal fango del mantenersi nel piccolo per poter dire io ci sono riconoscimi che sono questo di fatti cosa si porta dietro la paura quello che è l'idea del giudizio che la paura porta dietro di sé il giudizio per cui essere giudicati come non una brava persona pensate a tutto quello che sta succedendo per cui non sono per essere considerato una brava persona mi adegua certe cose e per farlo si sfrutta la paura e non so se loro sanno queste cose qua ma diciamo che l'insieme delle aree di necessità l'area di necessità della paura è essere riconosciuti come brava persona ti è saltato il vocale in qualche modo per esempio anche il cittadino modello e quindi per essere cittadino modello il figlio perfetto finisci a seguire tutta una serie magari di indicazioni che ti vengono da salate dall'alto sì sì e poi si entra in una illusione cognitiva pazzesca perché esiste un'altra illusione cognitiva e ascoltatemi bene quelli che stanno seguendo questo incontro l'illusione cognitiva che se io mi comporto bene e quindi sono una brava persona vuol dire che anche gli altri con me devono essere bravi perché necessariamente essendo io bravo gli altri riconoscono che sono bravo per cui le cose devono andare bene ma se non vanno bene loro sono delle s sono delle m sono dei b sono tutte queste cose qua ho detto solo iniziali per non dire parolacce però sono sono veramente infami diciamo così dei fetenti degli infami perché non hanno rispettato questo e anche se si superasse guarda vivi in una situazione dove sono una brava persona tutti sanno che sono una brava persona l'altra illusione cognitiva qual è quella che avendo almeno questi due parametri il terzo deve venire da sé le cose vanno come dico io ma non andando come dico io la paura essendo un satellite che cosa c'è si porta dietro il catastrofismo non sono andate eppure io ho fatto tutto il possibile sono una brava persona ho seguito le regole ho fatto tutto questo e guardate perché proprio a me mi è successo di nuovo questo è anche il vittimismo in qualche modo esatto esatto perché si va nel catastrofismo nel lutto perdo questa cosa ho la paura proprio di non essere riconosciuti o essere così maldestramente definiti in un altro modo giudicati in un altro modo provoca lo scatenarsi proprio dal difendermi dal dal lutto mi è la paura mi scatena va sia un'esondazione della paura per avere l'esondazione della paura usa l'altro satellite di espressione che è la rabbia e quindi li abbiamo anche gli omicini nei tuoi libri psicosomia psicosofia karmica e la natura karmica della malattia parli anche dei vasana e dei samskara di di base ci spieghi che cosa sono sì sono due termini indiani prima l'ho detto appunto sono molto mi piace molto il vedanta le neuroscienze la quantistica e l'esoterismo in genere teosofia antroposofia allora il yoga sutra di patangeli la stanga yoga comunque la sutra di patangeli che una delle bibbie del dello yoga lui parla proprio dei vasana e di samskara i vasana sono le nostre impressioni latenti le nostre impressioni latenti sono quegli aspetti che noi abbiamo dentro di noi quello che noi come ho detto prima non sappiamo di sapere sono le cose che abbiamo qui dentro sono le nostre potenzialità ciò che è possibile manifestare ma che non sappiamo di poter manifestare e cosa c'è che li gestisce i samskara i samskara sono i costruttori abbiamo magari dei bambini piccoli che dimostrano già un loro tipo di comportamento non hanno non parlano perché hanno pochi mesi di vita eccetera eccetera eppure già fanno capire quanto possono essere forti grintosi testardi eccetera quello è il vasana di base innato che pronuncia e annuncia se stesso al mondo ora i genitori cosa fanno lo educano in base a delle regole che sono della società i samskara assumono queste regole e determinano se lasciare quando e in che modo aprire il vasana quindi i nostri vasana sono gli aspetti che noi abbiamo innati potenzialmente con i nostri talenti che ne abbiamo dentro che vengono riorganizzati man mano nella nostra vita con il samskara ci sono poi dei vasana secondari che sono i vasana normativi i vasana normativi sono quelli che ci vengono dati e lo dice proprio il termine dall'idea dei nostri precettori che possono essere i zii genitori maestri il datore di lavoro le esperienze di vita che ci dicono guarda questo è meglio che sia fatto così oppure tu questo si può fare quindi quei vasana rimangono dentro di noi e ce li potremmo portare nel viaggio successivo ecco intorno a una vita una vita poi futura nella reincarnazione ma questo crea un altro tipo di samskara di organizzatori che cercano in qualche modo di proteggere il vasana perché loro i samskara proteggono il vasana e dicono lo attivo o lo disattivo on off sono l'interruttore di questi di questi vasana ed è proprio lì che fa la differenza quando il vasana è attivo cioè questi quelli che ho detto lutto rabbia attaccamento sono dei vasana di base in realtà che vengono poi dalla vita dalle situazioni della vita cioè dei samskara attivati o meno e dello stato di coscienza che noi abbiamo in quel momento che fa sì che vengono attivati o meno o alimentati o meno quindi liberati oppure no senti tu prima avevi parlando del fatto che comunque sei molto legato alle dottrine orientali all'esoterismo teosofia antroposofia eccetera hai citato le neuroscienze e studiando proprio queste dottrine ci si trova davanti effettivamente a delle similitudini con le neuroscienze che sono impressionanti ce ne citi alcune sì allora pensiamo al mcclein ha diviso il cervello in tre parti già negli anni settanta con la corteccia il mesencefalo che la parte del limbico e il rettiliano che la nostra parte proprio qui dietro della medulla allungata e quant'altro allora già in questo già in questo abbiamo un'idea di quello che nel vedanta sono le le quattro menti voi dite ma ne hai parlato di tre perché mi parli di quattro menti perché la quarta mente buddhi non è nient'altro che dovrebbe essere quella che in qualche modo dovrebbe esprimersi ma che in realtà non riesce a farlo in molti perché buddhi riesce a manifestarsi solo se queste le tre menti sono in realtà ben organizzate allora le tre menti del che ci sono rappresentate nel vedanta sono citta manas anchora e buddhi la ripeto va citta manas anchora e buddhi citta è un po come la scimmia con una t meno come di tarzan ok che raccoglie le informazioni e tutta agitata le cose così e in qualche modo raccoglie raccoglie le informazioni che li tiene e le tiene lì manas manas dice ok mettiamo ordine in tutte queste in queste in queste informazioni e quindi manas dice guarda mi occupo io dei ricordi e quindi io faccio l'impiegato di concetto dei pensieri e li metto lì ma che cosa succede i ricordi vanno a potenza a sistemarsi nel sistema limbico c'è nel senso che vengono scatenati dalle emozioni e altrettanto citta dice io ho bisogno di pensare ma pensando attraverso questi ricordi che cosa succede il sistema rettiliano quello che rappresenta la nostra sopravvivenza quello che joseph ledu un neuroscienziato che ha studiato proprio e ha denominato questa parte rettiliana il sé sinaptico cioè colui che ci obbliga ad essere quelli che siamo come lo definisce lui quindi ci obbliga ad essere quelli che siamo perché perché prende spunto dalle esperienze dalle memorie e attraverso anchora ristruttura la credenza del io sono fatto così quindi quando noi diciamo io sono fatto così stiamo dicendo che è ancora la che parla non è un'altra parte della nostra mente è ancora e ancora non è nient'altro che la ristrutturazione del nostro io dell'idea che noi abbiamo di noi per cui accade una cosa accade una cosa c'è uno stimolo uno stimolo citta dice a guarda che bello stimolo eccetera allora malas dice fai attenzione questo qua farà parte di quei ricordi lì allora stimolo ricordi e ancora che cosa dice può posso farlo non posso farlo va bene così eccetera mi devo arrabbiare non mi arrabbiare posso lanciarmi questa cosa oppure no sono timido ok stimolo a guarda quelle persone vi vado vicino manas dice guarda che nella memoria c'è che non puoi farlo perché citta dice ma no ma puoi farlo nella memoria no 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 è ancora dice guarda che sei timido ma già non posso andare perché sono timido ok giochino è questo c'è detto molto velocemente ovviamente questo è ecco è uno degli aspetti delle neuroscienze dove noi vediamo dove citta la parte della corteccia manas la parte anche emozionale del riordino dei pensieri perché ricordiamo che l'ipocampo se le centrale della memoria è comunque tra la corteccia e il sistema limbico e poi abbiamo ancora che l'aspetto del nostro se sinaptico poi buddhi che dovrebbe in qualche modo essere il regista buono di tutto questo in realtà per il momento sogna per poter esistere in questo momento buddhi manifesta la sua parte spinto dal manas cosiddetto inferiore sulla materialità quindi lui si muove come coscienza ecco il buddhi lo stato di coscienza possiamo definirlo così un di si muove in una coscienza assopita nella coscienza più materialista che ha più legato alla paura più legato all'attaccamento più legato al catastrofismo eccetera quando si è liberati da quello si è illuminati se buddi cioè il buddi mantiene l'armonia e la bellezza di tutto questo in effetti in sanscrito quando citta e calma si ottiene lo yoga perché la secondo sutra di patangeli dice appunto questo lo yoga è l'assenza dei pensieri che sono pensieri di un certo tipo ovviamente senti tu prima hai citato l'epigenetica nei tuoi libri comunque ne parli abbastanza spieghi anche insomma tutte le connessioni degli studi epigenetici ebbene che cosa possiamo imparare da questa dottrina l'epigenetica studia ciò che avviene sopra sopra la genetica al di là della genetica e quindi studia le reazioni che ci possono essere che si possono essere anche portate nel tempo indipendentemente dalla predisposizione che uno abbia e come questa può essere trasmessa in più generazioni hanno fatto due esperimenti importantissimi io ne cito uno nel libro dei topi hanno messo i topi in una gabbia e hanno in un'area riga della gabbia hanno posizionato un fiore di ciliegio attraverso questo fiore di ciliegio mandavano il profumo del fiore di ciliegio quando i topi si avvicinavano al fiore cosa succedeva ricevevano una scossa per cui i topi hanno incominciato ad associare fiore scossa ma il semplice inviare il profumo del fiore in aria parte della gabbia faceva sì che i topi scappassero perché dicevano se c'è l'odore vuol dire che stanno arrivando i fiori e quindi arrivando i fiori arriva la scossa e quindi dobbiamo scappare allora hanno notato che fino alla terza generazione indipendentemente dal fatto che loro continuassero meno a buttare il profumo quindi a spargere la fragranza o a posizionare il fiore di ciliegio i topi non entravano più in quella parte della gabbia quindi era tutta un'area della gabbia dove i topi si rifiutavano di entrare quindi anche quelli che non avevano mai avuto l'esperienza proprio a livello innato non riuscivano più ad entrare va bene solo quando hanno incominciato a cambiare le cose quindi mettere nuovi profumi fagli avvicinare alla parte hanno visto che mettendo nuovi profumi non succedeva niente quindi i topi hanno detto questo profumo nuovo e si sono avvicinati nella zona proibita delle generazioni precedenti hanno visto che non succedeva niente hanno riprogrammato il cervello rispetto a quello che era prima per cui hanno notato che però i circuiti a livello neurale di una reazione al fiore al profumo del fiore di ciliegio rimaneva per cui se loro sfruttavano il fiore di ciliegio si attivavano i neuroni e loro controllavano se arrivava la scossa o no erano in attesa piuttosto che nella reazione del cervello limbico della amigdala di dire fuga attacco o freezing quindi rimanevano in attesa rimanevano nel freezing nell'attesa vedevano che non succedeva niente e vedendo più volte che questo è accaduto si è sciolta questo aspetto anche se sono rimasti sempre attivi questi neuroni quello che viviamo da due anni può produrre paura della della malattia o della vicinanza perché con la distanza può produrre queste e questo lo dico semplicemente per dovizia di particolari a livello epigenetico può lasciare un segnale fino a tre generazioni di persone con la paura di essere troppo vicine o di prendere malattie quindi avremo più persone che possono essere ipocondriache rispetto alle situazioni igieniche quando noi arrivavamo da delle famiglie almeno io con l'età che ho quando è caduto per terra e soffia cioè mettilo in bocca e mangia cioè fai gli anticorpi no una parola che adesso sembra dimenticata ma all'epoca si raccoglieva la roba per terra e si mangiava ok quindi questo per dire in questo caso per esempio quale quale può essere un tuo consiglio per cercare di contrastare i danni a livello epigenetico che in qualche modo si ripercuoteranno nelle future generazioni sui traumi in generale in questo caso tu hai fatto l'esempio delle misure per contrastare la situazione sanitaria che automaticamente creeranno dei disagi ipocondria o altro nelle future generazioni sì entriamo anche in un aspetto un po così vivo della conferenza di questa sera sì allora che cosa posso dire perché il tempo è quello che diciamo che quello che possiamo fare per difenderci da tutto questo allora come ho detto prima uno dei grandi elementi è riuscire a identificarci meno rispetto a quello che accade le cose accadono allora come io posso fare gli errori ma gli errori non fanno me posso anche prenderla così io posso pensare ma i pensieri non fanno me e questi pensieri non necessariamente devono essere miei per cui è importante entrare nell'ordine di idee che esistono molti pensieri pensieri ma che noi siamo quello che può decidere perché siamo liberi come pensare se aderire o meno a un pensiero ora è ovvio c'è sempre quanto mi costa e sono disposto a pagare nel prezzo e la domanda magica è quella sono disposto a pagare il prezzo rispetto a questo costo ebbene se noi riusciamo a rispondere sì a questa domanda riusciamo in qualche modo ad allontanare sempre di più quest'idea è ovvio che per proteggere i nostri figli per le prossime generazioni dovremmo essere noi primi ad avere un rapporto leale con loro e senza timore con loro facendo in modo che loro continuano a vivere veramente chiaramente l'aspetto del dello stare insieme con gli altri perché se non stanno insieme con gli altri veramente avremo poi delle generazioni che soffriranno tanto ecco quindi adesso con i bambini si può fare chi è adulto può cercare di trasmetterlo attraverso gesti agli adolescenti e già gli adolescenti sono già al rischio di quelli che potranno produrre una generazione con più paura ma almeno i bambini piccoli in età prescolare e scolare stiamo parlando proprio infanzia materna e diciamo così è elementare su quella fascia d'età lì bisogna agire veramente in modo diretto con più amore ma di contatto anche fisico su questo su questo sicuramente si diventando certi perché il genitore che il genitore abbia meno paura indipendentemente dalle idee che abbia meno paura l'umanità ha sempre superato ogni tipo ogni tipo di attacco visibile invisibile fino adesso sono migliaia d'anni che per cui i bambini hanno proprio che hanno preso il colostro durante l'allattamento hanno un'informazione genetica di questa vita è un'informazione biologica in questa vita capace di rispondere a tutto ciò che è imprevedibile nel loro mondo non ancora codificato e fino a sei anni questo funziona questo è c'è un nostro spettatore che ti chiede la conferma quindi anche per esempio chi ha vissuto del il trauma di una guerra ha trasferito la memoria di questo trauma ai figli e nipoti sì come l'ha vissuto sì sicuramente sì ci sono ci sono famiglie dove per esempio la la paura dei tuoni ok che ricordano le bombe e che vengono trasferiti ai figli dove la persona cioè dove hanno paura dei fuochi d'artificio o non dicono non mi piacciono perché hanno dentro e scatta l'allarme lo stress e quindi scattano tutti i sintomi e i segnali di uno stress molto forte rispetto a dei suoni molto forti che possono essere i tuoni poi i fuochi d'artificio perché ricordano le bombe e questo è stato trasmesso dai genitori che hanno magari vissuto tanti bombardamenti o hanno visto una bomba vicino e quant'altro quindi sì 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 si può trasmettere questa cosa ci chiedono tra l'altro chi in questo periodo non ha né paure né fobie indotte si ritrova in un mondo diverso perché la complessità della gente comunque succube di queste paure quindi in qualche modo anche chi magari apparentemente non non sente eh di essere diciamo vittima della della paura del terrorismo mediatico indotto può comunque poi eh a livello poi diciamo magari anche tanto di inconscio ehm subire delle ripercussioni e automaticamente poi trasmetterle ai figli e ai nipoti vedi scorrendo no no perché allora si parla allora questa cosa questa cosa della trasmissione è mediata in questo in questo la scienza lo dice non lo dico io ehm è mediata da una parte dello sperma maschile la trasmissione di questo è mediata da una parte dello sperma maschile e viene poi potenziato nel se non la donna ok nella gestazione della donna per cui ehm per cui in questo momento e lo dico in maniera molto sincera i ragazzi giovani maschi quindi adolescenti dovrebbero o bambini piccoli dovrebbero essere proprio educati all all'allontanarsi dalla paura del contatto educati all'allontanarsi sia la paura delle malattie ehm del poter avere un pensiero più critico in modo tale che questo possa essere trasmesso che poi alla loro dovrebbero essere di più perché loro hanno cioè nello sperma c'è la possibilità di spingere verso un'idea di forza della specie cioè perché per la natura il maschio combatte e la donna porta avanti la protezione dei piccoli. È anche vero che insomma nelle ultime generazioni abbiamo visto dei genitori eh sempre più protettivi al al limite dell'esegerazione quasi da tenere i bambini sotto una cupola di vetro eh come se fossero iperfragili e quindi magari questa iperprotezione cozza un po' contro purtroppo contro i tuoi i tuoi consigli ehm l'autoguarigione quindi è davvero possibile? Allora eh l'autoguarigione è possibile sì l'autoguarigione è possibile sì l'autoguarigione è possibile sì lo dico molto in maniera molto chiara tutto dipende tutto dipende sempre da un aspetto fondamentale il rapporto che abbiamo con noi stessi quanto ci vogliamo bene e quanto siamo disposti a parlare con noi stessi perché tutto il discorso che ho fatto questa sera si basa principalmente sul fatto che è importante dialogare con noi noi in ogni momento della nostra vita della nostra giornata dialoghiamo con noi stessi in ogni momento della nostra vita della nostra giornata ci facciamo delle domande anche in questo istante vi state facendo delle domande ma quello che sta dicendo è giusto sbagliato sono d'accordo non sono d'accordo c'è da adesso tu ne dite stai dicendo sì quindi stai rispondendo alla domanda sono d'accordo sì allora ed è naturale che questo avvenga è inconscio ma noi rispondiamo costantemente delle domande abbiamo bisogno del nostro interprete interiore in modo continuativo ed è proprio lì l'elemento fondamentale se noi cominciamo a farci le domande giuste se noi cominciamo a volerci bene su questo aspetto qua l'autoguarigione avviene la domanda più giusta è e lo dico anche nel libro a cosa mi serve quello che sta succedendo quello che ci succede nella legge del ritmo c'è un momento dove noi la prima funzione della legge del ritmo nella malattia è blocco nel blocco ci fermiamo dobbiamo fermarci se non abbiamo sentito e dato peso ai segnali di prima il blocco ci dice fermati ma non ci dice fermati perché devi in qualche modo voltare le spalle al tuo futuro ti dice fermati semplicemente per guardare che cosa c'è in quel momento in qualche area della tua vita c'è qualcosa che non va c'è qualche cosa da sistemare devo sistemare qualche cosa quindi migliorarlo o devo sistemare qualche cosa cambiando completamente questa è la della domanda ed è lì la vera guarigione che che lo dico anche nel libro e non solo nel libro non è necessariamente una guarigione fisica mi raccomando perché noi potremmo essere ci sono persone che sono fisicamente messe malissimo eppure sono fantasticamente vitali ok abbiamo gente che prende le medaglie d'oro quindi cioè cioè alla paralimpia l'anno scorso sono state fatte delle cose meravigliose per cui non è la malattia fisica la guarigione è l'aspetto guarigione è qualche cosa di molto 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 interiore ed è quello che sconfigge tutto davvero lo sappiamo adesso faccio la solita battutina da stupido comunque tanto in un modo o nell'altro da qua non sei mai scemini ok quindi bisogna fare qualche cosa fare qualche cosa e imparare a parlarci è importante ecco però proprio su questo per leggere questo blocco bisogna essere molto sinceri non c'è anche magari il rischio di mentire di essere i primi a mentire a noi stessi e quindi di sbagliare nel leggere anche i sintomi o i messaggi che il nostro stesso corpo ci ci dà qual è il consiglio che tu daresti a una persona che si predispone per leggere il blocco per ricevere in qualche modo il messaggio giusto e partire da lì e cambiare ok allora il messaggio che io do non do solo un messaggio adesso ma do veramente un piccolo assaggio di quello che potremo poi vedere anche durante la masterclass e allora noi viviamo nel nostro dialogo interno perché lo stimolo a un'integrazione nervosa l'integrazione nervosa poi prevede una percezione e questa percezione si trasforma in emozione o risposta questo può avvenire su due basi bioelettrico o biochimico ok biochimico prendiamo un fitoterapico un prodotto naturale un rimedio chimico naturale eccetera mettiamo in bocca va nello stomaco questo sciogliendosi insomma con intestino rilascia dei principi attivi e grazie principi attivi prendiamo l'alpago fitum conosciuto come artiglio del diavolo grandissimo antinfiammatorio e quant'altro ebbene ci passa il dolore alla schiena perché abbiamo preso artiglio del diavolo ma il dolore alla schiena è nervo muscolo è elettrico non è biochimico però l'elemento biochimico è andato a dare un segnale bioelettrico dolore alla schiena non mi piace prendere le pastiglie mi fa vado da un osteopata da un fisioterapista mi fa una manipolazione mi fa uno stimolo bioelettrico passa immediatamente quello il mal di schiena ok quindi è tutto basato su bioelettrico o biochimico va bene il segnale lo stimolo allora è da questo che noi possiamo iniziare un colloquio con noi in modo assoluto adesso mi insegno una cosa che mi è stata ovviamente insegnata anche a me ed è molto 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 semplice allora quello che vi chiedo è fatto la casa ovviamente di fare questo gesto qua quindi unire il pollice e l'indice è facile pollice indice molto semplice e iniziare a muoverlo cioè muovete l'indice allora dite mentalmente o se siete da soli in casa e non mi prendono per stupidi che parlate davanti al computer e dite semplicemente mi chiamo e dite il vostro nome ok e sentite che devo dire a voce alta o lo dice a voce alta o pensi gridando così e dite il vostro nome e sentite se è liscio o no poi provate a dire per i maschi possono dire sperando che non ci sia nessuno che si chiama così comunque giacinto e per le donne genoveffa ok provate e vedete che cosa succede sentite rigido sentite più ruvido ovviamente è una cosa che non bisogna fare sentire proprio un po parcelli che diventa rigida allora questo è un piccolissimo segnale ma proprio una roba sembra stupida ma non lo è allora questo prodotto qua mi può aiutare mi fa bene in questo momento ruvido no butto lì cioè anche solo per l'alimentazione iniziare a parlare con se stessi questa cosa per me in questo momento mi è d'aiuto sì questa cosa per me mi è di aiuto o cacchio no eppure ero convinto di sì allora l'importante è sapere e avere la certezza perché così è che questo funziona cioè è qualche cosa che noi abbiamo approfondiremo questa tecnica con qualche cosa di molto più strong ovviamente durante la masterclass questo è ovvio ma questa cosa qui ovviamente almeno il preliminare entrare in relazione con un dialogo con noi stessi le domande che vogliamo fare con noi devono essere domande sempre con si e con no e questo ci consente davvero di poter avere un iniziale rapporto con noi che ci porti ad avere qualche cosa di più bello quindi un buon dialogo un buon rapporto e armonia con noi sentiti faccio un paio di domande che sono arrivate dai nostri spettatori poi ovviamente ricordiamo l'appuntamento con la nostra masterclass allora l'idia ti chiede se la stessa malattia si manifesta con messaggi simili oppure diversi per ognuno di noi non ho capito bene la domanda scusa la stessa malattia si manifesta in ognuno di noi con dei sintomi simili oppure diversamente se uno prende la causa che ci sta dietro insomma perché come si manifesta esiste per esempio un libro famosissimo in tutte le facoltà di medicina che si chiama merx questo libro raccoglie tutte le patologie fisiopatologie raccoglie come nascono eziologia il 98 per cento eziologia sconosciuta lo dico già quindi non si sa da dove arriva per cui tutto questa roba qua gli altri virus batteri per cui tutto quello è così come fare come non fare e quindi i sintomi sono per una malattia sono identici i messaggi invece che questo messaggio sono completamente diversi e perché si entra in relazione con quel tipo di malattia idem cioè questo è indiscutibile c'è ognuno di noi ha la stessa malattia una interpretazione che può essere completamente diversa cioè può arrivare una persona che ha un dolore alla schiena non so alla vertebra alla vertebra 9 dorsale 9 ok la dorsale 9 la dorsale 9 generalmente indica indica che cosa indica un atteggiamento vittimistico ok quindi sono vittima delle circostanze un po come il catastrofismo sono vittima delle circostanze eccetera però se io faccio bene attenzione conosco i codici dico ok questa persona vuole fare la vittima ma che cosa c'ha c'ha un problema alle ossa che è l'attaccamento quindi fa la vittima per qualche cosa che è attaccata oppure oppure visto che ci possono essere dei satelliti questa persona magari mi dice io sì c'ho male alla dorsale 9 ma ho anche male al scapolo femore alla scapolo scusatemi alla stanchezza del parlare comunque scapolo merale sì quindi scapolo merale qui nella spalla ebbene destro sinistra mi dice sinistra ebbene allora necessariamente ha un conflitto conflitto un conflitto quindi è vittima di se stessa c'è a un critico interiore talmente forte ok che la che le sta addosso ok in una trappola e una trappola pazzesca c'è una trappola delle espressioni di sé mancante è una trappola delle pretese delle pretese richieste con se stessa e per quello che poi ha male la d9 perché ha delle problematiche questo è il mio modo di affrontare nelle sessioni quello che quindi questi sono i codici per cui dolore stesso dolore ma interpretazioni completamente diverse linda in questo caso chiedeva sulla cistite cioè quale potrebbe essere il messaggio di una cistite ricorrente in questo caso ovviamente su una donna sì non solo su una donna allora la cistola su una donna perché diciamo che in generale quindi non posso parlare del caso specifico ma diciamo che in generale l'acqua spegne il fuoco l'emozione è un fuoco sono emozioni che non vengono in nessun modo espresse quindi che cosa succede l'acqua vuole spegnere questo fuoco di quell'emozione molto forte però si scalda ed esce calda e quindi c'è la cistite in una donna può anche essere una cistite legata c'erano c'era un famoso sintomo quando mi occupavo di oma patia c'era un famoso filtro che diceva cistite in giovani spose perché all'epoca ci si sposava in libate ok quindi cistite in giovani spose per cui che cosa succede questo era determinato dal dalla paura della dell'atto eccetera adesso può essere trasmutato nella relazione quindi ventaglio pazzesco ok diciamo che come base c'è questa cosa qua cioè è un'emozione molto forte che non trova la sua espressione in altro modo se non nel tentativo di spegnere questa emozione con l'acqua calda che diventa cistite ok allora sai che adesso parlando comunque anche dei messaggi delle malattie abbiamo aperto non dovevamo aprire in base di pandora tanto comunque tra poco ricorderemo l'appuntamento alla masterclass del del 19 ti faccio ancora per un paio di domande perché giustamente i nostri spettatori sono sono curiosi ed evidentemente hanno anche bisogno di informazioni psoriasi qualche suggerimento psoriasi psoriasi è legata a quello a una dei siti della gelosia del dell'invidia l'invidia eccetera perché perché si porta dietro quello perché si porta come base essere in grado di amare se stessi senza sentirsi in colpa essere in grado di amare se stessi senza sentirsi in colpa poi nel penultimo capitolo del libro la parte finale del libro c'è proprio sulla pelle parlo da psoriasi dell'exeme della dermatite e la loro configurazione rispetto ai codici carmici quindi nella fine del del libro ci sono alcuni aspetti legati proprio a tutti questi codici e all'interpretazione di alcuni di alcuni di alcune malattie di alcuni disturbi e di alcuni fastidi allora lilli chiede invece sull'epicondilite bilaterale cronicizzata da quasi un anno wow wow mamma mia mamma mia è interessante allora noi normalmente chi ha fatto io ho fatto il militare e nei percorsi di guerra si cammina si cammina strisciando così facendo la mostra del lopardo e in questo modo qua così è che va bene allora sicuramente sicuramente c'è una bisogno di espressione di sé legata alla difesa di qualche cosa che si è ritenuto essere minacciato quindi qualcuno ha voluto voleva portare via qualche cosa e allora ha difeso quella situazione lì in modo drastico combattendo o quindi e quindi questa cosa qui si nel senso che c'è questo diciamo che di base di base ci può essere una una umiliazione ok ok beh poi adesso sarà poi lì sì appunto a capire poi in ogni caso ricordi ogni caso è personale adesso faccio delle cose mi raccomando un dice mi ritrovo non mi ritrovo io sto facendo delle cose generalizzate perché ognuno ha la sua storia e la sua vita ok quindi così ricordiamo anche il sito di di sergio www.sergioaudasso.it anche qualora volessero poi prendere appuntamento con te o comunque insomma approfondire meglio tu prima parlavi della dorsale 9 hai fatto anche l'esempio della della spalla della cartilagine il soltanto la il dolore alla spalla della cartilagine che cosa hai dovuto alla relazione con gli altri se quindi la maggior parte delle persone che si trovano in relazione con gli altri e quindi ha delle difficoltà relazionali si sta separando o ci sono difficoltà esprimere i sentimenti nei confronti dell'altro quindi l'abbracciare l'unità e quant'altro se la posizione sinistra o destra di si sa se verso una dono verso un uomo ok allora la fibromialgia invece che cosa esprime allora la fibromialgia nelle ricerche scientifiche dicono che è un aspetto molto molto legato a situazioni stressogene quindi situazioni di natura psichica va bene quindi c'è un aspetto psichico molto molto forte dall'altra c'è una parte una parte mia c'è anche un'idea di di standard richiesti si è entrati nella trappola dei standard richiesti cioè si cerca di coprire un ruolo al 100% e non si pensa di essere mai arrivati a coprire quel ruolo al 100% cioè di non fare mai abbastanza e quando c'è questo questo crea fibromialgia che la maggior parte delle donne sono colpiteci nel senso che più verso la donna diciamo che è una donna che tende a riconosce il suo valore ma non riesce a valorizzarlo tende ad avere non è un gioco di parole tiroidite in questo caso tiroidite di Hashimoto è la tiroidite di Hashimoto è invece la parte dei tessuti interni e quindi anche ghiandolare quant'altro per cui è un allora le cose che capitano sono si tende all'esagerazione ok ok sì c'è maggiore vulnerabilità e si tende la dipendenza quindi si entra nella trappola della dipendenza e della vulnerabilità poi ovviamente lo ripeto e adesso dicendo delle cose generalizzate non prendetele come certo anche perché l'hai spiegato fin dall'inizio a partire dall'alimentazione a cui tutti siamo diversi quindi comunque certo ma infatti nel libro lo parlo dico si dice si parla di terreno ognuno di noi ha un terreno specifico ecco perché in alcuni casi grazie a questo terreno noi possiamo piantare tanti semi in un terreno ma proprio realmente ma se quel terreno lì non viene in qualche modo non è pronto per quel tipo di seme non succede niente quel seme non cresce allora te ne farei ancora due eh tra l'altro che sono anche eh patologie molto diffuse la gastrite sì e l'altra eh l'altra è il dolore alle ginocchia dolore alle ginocchia e gastrite interessante allora gastrite eh la capacità di negoziazione che è venuta per me quindi proprio eh qualche cosa nel senso che uno si autocensura esatto magari preferisce quindi inghiotte esatto 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 e non dare a se stessi la possibilità di poter negoziare nelle situazioni e quindi la paura del conflitto entra un protocollo che lo chiamo protocollo save che sono le scuse eh le alibi vantaggi di queste scuse questi alibi per evitare situazioni e questa situazione qua crea necessariamente la gastrite che poi si cronigizza eh nel senso che poi si cronigizza e quindi succede così poi può diventare ulcere e quant'altro perché cambia il ph le ginocchia le ginocchia bellissime le ginocchia allora come posso dire allora essere approvati quindi la persona che ha parlato della ginocchia pensi all'approvazione allora eh una volta una volta si riceveva si entrava nella grande grande annovero delle persone importanti ci si inginocchiava davanti al re si otteneva un riconoscimento ufficiale quindi ok quindi le ginocchia sono principalmente il c'è stato già qualcuno un certo caino tanto tempo fa che non si è piegato è rimasto in piedi di fronte a una voce ok qua uno parla queste cose qua con le bibbie eccetera quindi rispetto a questa storia reale o meno comunque il simbolo è proprio quello non da un lato non mi voglio piegare ma ho bisogno di approvazione cioè però però ognuno è suo e quindi qualcuno dice non mi riconosco però bisogna affrontare il discorso perché ci sono mille sfumature poi sotto guarda questo è un argomento che eh ai nostri spettatori piace tantissimo io già ti propongo ecco una puntata soltanto su questo dove magari andiamo ad approfondire anche con le persone che ci seguono anche ti faranno le domande con qualche informazione in più perché qua davvero potremmo andare avanti per ore però ricordiamo adesso non so se poi anche mercoledì 19 ne vorrai parlare ci sarà tempo per parlarne che è tutto questo che abbiamo insomma di cui abbiamo parlato fino ad ora era soltanto l'antipasto per la masterclass del 19 quindi mercoledì 19 gennaio a partire dalle 20 e 30 eccoci qua con la locandina bellissima ci sarà questa masterclass guarigione quantistica e potere del cervello dove ti potremo tenere ostaggio fino a notte fonda e chiederti tutti i possibili messaggi relativi ai sintomi e alle malattie inizia appunto alle 20 e 30 per 24 ore ci sarà l'offerta a sole 9,90 euro invece che 19,90 euro e vi ricordiamo anche che in omaggio per chi si iscrive ci sarà l'audio della meditazione guidata proprio di Sergio per riattivare il corpo e connetterlo con l'universo Sergio vuoi aggiungere qualcosa altrimenti passiamo ai saluti e ti ringrazierò davvero tanto perché so già che questa serata è piaciuta tantissimo meno male cioè ci speravo nel senso che quando ho visto la mole delle persone che si sono iscritte sono rimasto piacevolmente colpito e mi ha fatto molto piacere essere qui con voi sì nella meditazione che c'è in omaggio per la masterclass è una meditazione che porta proprio da profonda inizia ad entrare in contatto con quella parte con quei vasana di base proprio presi dalla nascita per cui comunque la meditazione si arriva lì e si va a scoprire perché c'è proprio un penso della meditazione si va a scoprire qualche cosa che magari non si sapeva di sapere non si potete non si sapeva di possedere quindi c'è questa possibilità è ovvio che magari può arrivare alla prima meditazione o la decima ma questa meditazione aiuta proprio a connettersi con quella parte e quindi entrare in relazione con l'universo e quindi quantisticamente ottenere qualche cosa che sia coerente con noi nel nostro bisogno vero non nel nostro bisogno dello yacht io ho bisogno della macchina non dello yacht proprio le cose tangibili che siano per noi vere e quindi questo è possibile quindi vi ringrazio potrei anche fare un omaggio in più mercoledì per chi si iscrive potrei fare un omaggio in più lo scopriamo quindi poi mercoledì sì diciamo che potrebbe ho intenzione di dare una gift card con uno sconto del 50% sulla mia sessione almeno la prima sessione per chi vuole approfondire con sessioni personali con me direi che sarei preso d'assalto dal feedback che abbiamo visto stasera aspettati di essere letteralmente preso una gift card da 40 euro con 9,90 avete una gift card dei 40 euro ovviamente dopo Masterclass manderò l'email con la gift card certo certo allora la nostra Giulietta ha messo in chat tutti i link per acquistare i tuoi libri ricordiamo in particolare Psicosofia karmica e la natura karmica della malattia che sono i due volumi che approfondiscono proprio le tematiche che stasera abbiamo visto e abbiamo toccato ovviamente velocemente sempre in chat trovate il link per partecipare alla Masterclass per iscrivervi e ricordiamo anche i tuoi contatti sergio www.sergioaudasso.it e poi la tua mail per te chiocciola sergioaudasso.it grazie a tutti voi che siete stati con noi vi aspettiamo alla Masterclass di mercoledì 19 gennaio e soprattutto grazie a te Sergio per essere stato con noi tra l'altro per essere stato così disponibile e chiarissimo è stata una delle volte in cui ho sentito un esperto essere così chiaro e divulgativo nello spiegare i messaggi relativi ai sintomi alle malattie grazie grazie davvero grazie a tutti grazie grazie anche alla nostra Giulietta dietro le quinte che ci ha fatto come sempre da regie ha mosso tutti i fili grazie a tutti voi ci vediamo quindi mercoledì 19 alle 20 e 30 buona serata a tutti ciao ciao